119 prima, appellone. Pronto? Mi dà Tina, per favore? Sì, grazie. Pronto, Tina? Sai, sono tornata adesso dal centro. Come? Gli esami? Ah, beh, sono andati abbastanza bene. Ti dispi... Ah, no, sei contenta. Sì, sì, scusa. Avevo capito che ti dispiaceva, sai. No, no, sono stata promossa. Sì, e ho anche la borsa di studio. Come? La tua commissione era più importante della mia? L'anno scorso? Scusa, cosa ne sai? Ah, sì. Capisco, sì, sì.